Professore, ma che cazzo sta dicendo? Come ti permetti di fare ironia sul napalm? Il napalm è il sinonimo della memoria dell'intelligenza. Il napalm uccide i bambini! Io vi ricordo che questa università è stata concepita durante il fascismo per noi, figli di Borghesi. Chi è a favore dell'occupazione, alzi la mano! Come ti chiami? Andiamo a guardia di pubblica, sicurezza, Casella Nicola! Prima battaglia, la seconda compagnia, non so, Platone, comandi! Questo è un breccato. Questo è la legge tu. Questo è comunista, lo sai, sì? Mi piace il teatro. Discreta padronanza della lingua. Chi consiglia l'utilizzo del depo per le operazioni investigative. Vedete? Infiltrate. Mansueto Rino. Pietro Stalin. Zanchi Libero. Noi siamo qua per mettere in discussione la società con il suo insieme! Dico, che ci sono? Laura. Tu a certe occasioni le devi sfruttare. Le donne sono una miera se le prendi per il verso giusto. Te devo di tutto. In Italia, la risposta alle lotte sociali è la repressione, è la violenza! Ricordati che il lupo perde il pelo ma non è il vizio. Se hai poliziotto resterai. deve di commentare. Pretera di vediamo.. Piaia. Per rispostare. Don sinceri per snowman un sacco di